E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi sono ritornato nella vanilla Dopo l'ultima volta che ho sentito dei passi, non so, speriamo oggi non mi casca un fulmine in capo essendo che sta piovendo E comunque non c'è niente di meglio che registrare la vanilla quando piove Comunque, allora, mi ero fermato qui a prendere la legna per continuare il magazzino Che voi ancora non avete visto come è venuto Perché io nello scorso episodio della vanilla, se non l'avete visto andatelo a vedere Qui devo salire No, cavolo, sono caduto Voi avete visto comunque solamente la parte in cui, cioè, in cui prendevo qui la legna Ma voi ancora non avete visto come è venuta l'interno Allora, non è venuto un granché, ve lo dico Ancora c'ho da farlo praticamente, cioè mi manca ancora tantissimo Però sta venendo Comunque sta venendo abbastanza bene Cioè, comunque non è immenso, non è piccolissimo Ci sta, cioè, è un magazzino normale Adesso finisco qui di prendere questa legna E poi vi faccio subito vedere come è venuto fino a ora Allora, preparatevi Ve lo dico, non sarà bellissimo perché ancora ho scavato e basta Però, allora, io scendo, non vi faccio vedere ancora E... ta-dan! Allora, qui dove c'è la cobblestone ci voglio mettere le chest Infatti ho preso la legna apposta Cioè, in realtà Ho preso la legna di betulla Per fare le chest, essendo che di betulla ce n'è di più E quindi... Cioè, non sto a sprecare la quercia Per fare le chest Perché di betulla Cioè, di... Allora, di quercia ce n'è poca Di diabete invece ce n'ho... Ce ce n'ho tanta Posso fare quegli alberoni E ce ne faccio tanta Invece di quercia ce n'è pochissima Quindi, allora Adesso faccio tutte qui, tutte le chest Tante ne voglio Io ne voglio tantissime Vediamo quante me ne riesco a fare Beh, 34 34 sono tante Sono mica poche Allora, inizio a metterle quindi tipo così Allora Provo a sostituire tutto Anche se non credo di finircela Non so se mi bastano le chest Spero proprio di sì Perché comunque ne ho fatte tipo quant'erano 34 Sono tante 34 Poi se non mi bastano Ho un altro mezzo stack Adesso Faccio il magazzino Quindi credo che servirà anche un'altra puntata C'è un altro episodio della vanilla per finirlo Però poi la prossima costruzione che volevo fare Ah, io vi chiedo Se vi piacerebbe di più vedere la stalla Quindi una bella stalla in cui ci terrò mucche e tutti gli animali Oppure La mob farm Che anche quella mi servirebbe un po' per fare i livelli Cioè Scrivetevelo sotto nei commenti quale vi piacerebbe di più E poi ho finito le chest Peccato Beh dai, ne faccio altre Vabbè Comunque allora Scrivete cosa volete Che Io sono proprio indeciso Cioè Meno male che ho iniziato YouTube Perché se no io non saprei mai cosa costruire Cioè Ok Fatto Allora Le chest ce le ho messe Allora adesso Vado a prendere un po' di betulla Anche se non Cioè di quercia Scusate Che mi confondo Vado a prendere un po' di quercia Solo che non so dove trovarla Poi si è fatta pure notte Aspettate Sperando che non ci sia Qualche mostro Vedo di tornare a casa e dormire Comunque dai Quanto è bella la casa Solo che non so come arredare Magari il fuori Se ne sapete qualcosa Ovviamente Scrivetelo Nei commenti E niente Allora adesso dormo Devo trovare un modo per trovare Tanta legna Soprattutto di quercia Perché Di quella proprio ce l'ho pochissima Cioè pochissima Insomma ce l'ho Ma Non è che ce l'ho di quelle foreste Capito Grandissime Allora adesso io prendo questa qui Faccio un super timelapse E dopo continuo a Lì a costruire Ah poi scusate Intanto che prendo il legno Vi volevo chiedere Perché io stavo pensando Di comprare un nuovo pc Essendo che questo Veramente fa proprio schifo Un computer Magari Ovviamente non subito Magari fra Qualche mese Un annetto Non lo so Comunque fra Un bel po' di tempo Io volevo chiedere Dei componenti Per un pc Magari Vorrei spendere Per quel computer Non più di 2000-2500 euro Comunque Su quel budget lì Che comunque è un bel budget Molto alto E niente Perché sto mettendo da parte Molti soldi E quindi volevo sapere Magari per un nuovo computer Se mi potete scrivere Dei componenti buoni Anche Anche per giocare Magari anche A videogiochi un po' più pesanti Anche di minecraft Che ne so Se ne sapete qualcosa Perché io non ne so niente Di computer Comunque se ne sapete qualcosa Ovviamente Sotto nei commenti Mi si è rotta l'accetta Cavolo Ne vado a fare un'altra Olè Allora Ne ho preso già Uno stack e 39 Quindi credo che basti Poi al massimo Se se la finisco La vado a riprendere Allora Comunque continuiamo A costruire Comunque siamo arrivati Adesso che sto registrando A 56 iscritti Quindi magari Se dopo questo video Magari anche Mentre lo state guardando Per quelli nuovi Perché non Vi iscrivete Magari Lasciate anche un bel Mi piace Che a me Mi fate molto contento A voi non costa nulla Per voi è un click E basta Quindi Che aspettate Vabbè Allora E per le chest Volevo mettere Magari Tipo Per ogni chest Un separamento In questo modo Questa lanterna Dammela Che Serve a niente Metto una torcia Qui Ok Magari Per separarle Così In questo modo Qui ho sbagliato Poi Sopra Essendo che le chest Lo so Non si possono aprire Ci metterò Magari delle scalette Almeno Dopo le posso aprire Perché se no Così non le posso aprire Ovvio O le scalette Oppure Non lo so Le lastre Si possono aprire Boh Dopo vedo Allora così Ok Sto venendo Qui non so Se magari ci starebbe bene Anche un po' di Che ne so Luminite Boh E la luminite La posso andare a prendere Non mi costerebbe nulla E ok Ho finito Allora Già così Secondo me Molto Molto Bello Allora Adesso mi crafto Delle scalette Ah no Già un po' di scalette Ce le avevo Ma Non tantissime Quindi Pem E scalette Allora aspetta Prima di craftare Tante scalette Voglio vedere Anche se Con Le lastre Si possono aprire Che al massimo Almeno ci risparmio No Quindi così Si si possono aprire Fantastico Allora Ci metterò quelle Ma le scalette Non le ho fatte a caso Perché le scalette Le metto qui Almeno Qui le posso aprire Qui vabbè Dopo vedo che metterci E Almeno Boh Una decorazione in più Secondo me È bellina Ok Messo tutto Ora Faccio tantissime Lastre Così Altre Oh vai E ora le metto tutte Sopra la chest Le chest Scusate Intanto che le metto Vi volevo chiedere Scusa ancora Adesso in cui vi sto parlando Del microfono Che Lo so Non è dei migliori Però ragazzi C'ho il microfono Delle cuffie Ogni tanto è troppo alto Ogni tanto è troppo basso Vi chiedo scusa Comunque adesso Riprendiamo Ok ho finito Comunque ho pensato Che se magari Qui dietro ci metto Le foglie E qui magari Che ne so La glowstone Secondo me viene una figata Quindi adesso Vado a vedere Quanta glowstone C'ho Che non credo tantissima De glowstone De glowstone Ce n'ho poca Mi sa Beh se ce n'ho poca La vado a prendere Nel nether Cosicché Eh qui uno Un po' di polvere Un po' qua Zero Qui tre Poca Ma poca Eh Un po' tanta Poca Dai vado un secondo Nel nether Voi non vedrete nulla Però io Ne vado a prendere Un pochettina Eccomi Oddio è notte Comunque ne ho presa Ben 41 e 3 Cosini Che c'era Una vena Immensa Veramente Cioè L'ho presa tutta Da una vena Quindi Fantastico Allora adesso Vado a dormire Sono molto Iperattivo Adesso vado a dormire E costruisco Ah poi nello scorso video Mi avete detto Che Oddio Che Ehm Usavo un client O non lo so Una shader Ancora non ho capito Che Suoi pixel Sono bannabili Quindi ne terrò di conto Cercherò di cambiare client E comunque Vi ringrazio Di tutti sti consigli Di Tutte Tutte sti Tutte sti iscrizioni Veramente Vi amo Vabbè Allora Qui c'ho le foglie Quindi non c'ho bisogno Neanche di prenderle E gli arrampicanti Anche volevo prendere Magari Boh Non so se ci stanno Poi vedo E adesso Le vado a mettere Secondo me Cioè Lo voglio fare un po' Tipo Tema Che ne so Foresta Quercia Che comunque A me il legno Piace tanto Poi se qui vedete Tutto incompleto Ovviamente Ancora c'ho C'ho da fare Quindi allora Cioè potrei mettere La gluston Anche in molte parti Vabbè Qui Sicuramente Poi qua dietro Lo dovrei coprire Magari con Madonna No aspetta Aspetta Che qui non vedo niente Fammi entrare Ok C'ho da coprire Sicuramente Con della legna Quindi Via Torce E prendo L'alluminite Ok Quindi qui copro con Della legna Poi L'alluminite E qui La No No Sbagliato Sbagliato Scusate E qui Le foglie Volevo dire E ok Quindi in teoria Se c'è la legna Non dovrebbero neanche Scomparire Sicché No vabbè Se non è figo questo Poi ditemi voi Quanto è bello Poi anche lì Ci metto delle foglie Non so se scompaiono Ma credo di no Spero di no Soprattutto Adesso le metto Dietro qui Ogni cosa Anche qui Lo vorrei mettere Che secondo me Ci sta anche qui Magari si abbina Così Bellissimo Bellissimo Ok Dovrei aver finito Cioè Guardate quanto è bello Oddio Ma No No Cavolo No 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 Ho visto una cosa Guardate Lì ce ne è uno Lì ce ne sono due Benissimo Vai Risolto Risolto Bellissimo Tutto simmetrico Allora guardate com'è Cioè guardate quanto è bello Vi piace A me tantissimo Allora ancora c'è da finire Però Credo che per questo video Sia tutto Spero che il video vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Attivate la campanella Per non perdervi Nessun mio video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Di Gabryfire E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao